Ci siamo su TeleTour e Telecentro 2, ancora un grande appuntamento sportivo con Calcio Toscano, Calcio Giocato. Come sempre insieme a Maurizio Zini e a Marco Morelli e tantissimi ospiti. Parleremo dalla Serie A fino ai professionisti e oltretutto non mancherà la finestra sui dilettanti, Calcio Femminile, Calcio Giovanile. Tutto anche in collaborazione con il magazine Calcio Più e soprattutto con il prestigioso patrocinio Lega Nazionale e Dilettanti della Toscana. Calcio Toscano, Calcio Giocato. Amici sportivi, buon pomeriggio qui dallo stadio Bellucci di Agliana. Buonasera da Maurizio Zini per questa undicesima giornata di andata del Campeonato Nazionale di Serie D. Girone D, stagione 2023-2024 per questa partita fra Aglianese Calcio, 1923 San Giuliano City. Tutto pronto qui, stanno entrando come vedete dalle immagini di Galileo Gini, le panchine. Vediamo anche la terna arbitrale già pronta con le squadre che si stanno approntando ad entrare in campo. Permettetemi anche di salutare tutti i sostenitori che ci stanno guardando, ma anche tutti i tifosi del San Giuliano City che tra l'altro sono collegati da questa postazione social. Con me non poteva mancare Giacomo Manzanti e quindi buon pomeriggio anche a te. Ciao Maurizio, buon pomeriggio, ben trovati a tutti i nostri amici di Facebook, Instagram e chiunque ci stia guardando anche da YouTube. Ben trovati in diretta dallo stadio Bellucci, dicevamo undicesima giornata. Una sfida particolare, una sfida interessante oggi tra due squadre che probabilmente non hanno rispettato appieno i pronostici di inizio stagione. Sia Lianese che San Giuliano hanno oggettivamente una rosa qualitativamente buona, hanno giocatori anche fuori categoria, come si suol dire, sia per i neroverdi che per i gialloverdi. I Lombardi arrivano dalla retrocessione dopo la super stagione del 2021-22, sempre in Serie D. Da sottolineare anche la storia dei Lombardi, insomma, nati sotto questa luce, sotto questo nome nel 2017, luce perché appunto la famiglia che le ha rilevati, la famiglia luce, dalla seconda categoria, sono arrivati in cinque stagioni alla Serie D. Una scalata oggettivamente fenomenale e quindi, insomma, merito a loro. Ma adesso la Lianese deve tornare al successo perché c'è sicuramente anche rammarico dopo i tre punti sfuggiti a San Marino, lo ha detto Mr. Baiano a più riprese, insomma, la partita era praticamente in pugno. Poi due disattenzioni sono costate i tre punti alla Lianese che oggi torna davanti al pubblico di casa per dimostrare, insomma, il proprio valore. Vedremo alla fine come terminarà l'incontro. Squadre che scendano in campo con due moduli diversi tra di loro perché Mr. Baiano torna ad affidarsi a un 3-4-1-2 con Malocu e Dancona. Sugli esterni di centrocampo Fiaschi, Jacoponi e Viscomi. I tre difensori al centro del campo agiranno Perugi e Marino, Gabbianelli dietro le punti e Bocalon e Lica saranno i terminali offensivi della Lianese. Mentre risponde con un 4-3-3 il San Giuliano City, Manfrin tra i pali, Bruzzone e Brischi. I due centrali sugli esterni Solerio e Vassallo. Linea 3 di centrocampo composta da Azzeni, Guerrini e Salzano, insomma, giocatori che non hanno bisogno di presentazioni, soprattutto Guerrini e Salzano. Salzano tornato a ottobre, un giocatore che ha quasi 100 presenze in Serie B, insomma, uno dei fuori categoria di cui parlavamo prima. I tre attaccanti saranno Dejana e Keros a supporto di Cogliati con la maglia numero 9. Non disponibili per il San Giuliano De Angelis che non va neanche in panchina e Brogno squalificato fino al 13 novembre. Intanto vediamo il San Giuliano che è pronto a partire con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uomini sulla linea del centrocampo. Quindi una partenza forte, due soli uomini fuori dal cerchio e chiaramente Manfrin, il portiere, che parte dalla sua postazione nella formazione del San Giuliano. Da sottolineare la presenza di tre persone che in zona ci sono passate, ovvero Solerio, Vassallo e Sighinolfi, ex Pistoiese. Sì, Giacomo, volevo aggiungere intanto la classifica aglianese, punti 12, San Giuliano City, punti 11, quindi un punto solo a differenza. Ma l'aglianese, come hai detto bene anche te, poteva avere una classifica già ora in modo diverso. Ha detto il mister Baiano, proprio ai nostri microfoni, a questo microfono tra l'altro, nelle pagine ufficiali dell'aglianese calcio, che siamo bravi a riaprire le partite e quindi è già tutto un segnale. Soprattutto se pensiamo ai gol presi nel recupero, poteva avere, secondo il mio punto di vista, minimo 5 punti in più. Purtroppo sì, penso a Fanfulla, penso a San Marino, insomma, chiaramente ci sono state diverse situazioni in cui vediamo, magari prima o poi la fortuna girerà anche a favore dell'aglianese. Vediamo un po' come andrà la faccenda. Intanto l'aglianese è partita bene, Maurizio, mi sembra stia attaccando. Sì, è partita intanto subito con Capitan Perugica, preso possesso del centrocampo, ha provato due o tre incursioni, ma come vedi, mister Baiano chiede subito un pressing asfissiante, soprattutto sul possessore di palla. Diciamo modello gabbia, diciamo questo. Esatto, esatto. Intanto è partito il nostro timer con, ci scusiamo, con un paio di minuti di ritardo. Quindi insomma, ci saranno da aggiungere due minuti a quello che vedete in grafica. Il gaglianese ancora in pressing alto, prova a uscire il San Giuliano con Solerio, che corre verso la metà campo avversaria. Perugica esce su di lui, Solerio supera anche Perugica, che lo atterra, non è d'accordo col fischio arbitrale. Ricordiamo la terna di quest'oggi, signor Gianluca Guitaldi di Rimini, il fischietto della partita. Prima assistente, signorina Beatrice Toschi. Secondo assistente, Gennaro Apollaro. Anche lui di Rimini, quindi una terna tutta proveniente dall'Emilia Romagna. Arbitro e secondo assistente da Rimini. Prima assistente da Imola. Vedremo quello che sarà lo score di questa terna con l'aglianese. Intanto già un calcio di punizione con Salzano e Keros sulla palla. In mezzo c'è praticamente la linea difensiva con Bruzzone, Brischi e Solerio a saltare. Oltre chiaramente a Cogliati e Guerrini. Parte non va invece Keros, parte Salzano, va forte in mezzo. La palla rimane lì, uno stop a seguire di Brischi. La palla poi viene messa fuori da Dancona. E quindi sarà rimessa laterale in fase d'attacco con San Giuliano a battere con il numero 2 Vassallo, ex Pistoiese, dicevamo, nella passata stagione. Che quest'anno si è accasato in Lombardia. Lui è proprio a cambiare tutto dalla parte opposta verso Solerio. Palla in avanti per Guerrini che prova a girarsi. Perugia esce bene sul pallone. Boccalon la difende e scarica su Gabbianelli. Palla indietro un po' rischiosa. Alla fine Fiaschi ci mette bene il piede. Serve Malocu. Si va in sovrapposizione Marino. Torna sui suoi passi però Malocu non era d'accordo Baiano col movimento di qualcuno. Attenzione adesso la palla per Lica che inciampa sul pallone. Poi esce Perugi su Keros. Qualcosa però parte intera centrale il San Giuliano. Palla allargata sulla sinistra. Uno contro uno con Fiaschi. E poi buono l'intervento di Jacoponi. E c'è il calcio di punizione a favore dell'Aglianese. Scusate intanto Keros sembra rialzarsi a colloquio con mister Ciceri. Sì come hai visto soprattutto hanno visto anche tutti i nostri telespettatori. Questo discorso del San Giuliano cerca profondità. Molta velocità. E poi con queste maglie bianche veramente si vedono nitidamente. Ricordiamo sta attaccando l'Aglianese da destra verso sinistra. Di chi ci sta guardando. In maglia ovviamente nero-verde con bordi arancioni. E soprattutto un'Aglianese che ha bisogno di punti. Una partita fondamentale anche questa come tutte le altre. Ma sicuramente ha lavorato come ha detto anche Ciccio Baiano. La scorsa settimana dobbiamo lavorare soprattutto anche sulla mentalità. Esatto sì cambiare mentalità perché questa squadra deve prendere coscienza dei propri mezzi. Qui intanto un fallo di Bocalon perché sicuramente può e deve fare tanto di più. Bocalon ha colloquio con il signor Guitaldi. Sostiene di non aver fatto fallo ma Bruzzone è a terra quindi probabilmente il pestone c'è stato. Sì subito era abitato come hai visto dal secondo assistente. Ricordiamo il signor Gennaro Apollaro di Rimini. Ok adesso ecco qua che si torna sul punto di battuta. A parte Manfrin dovrebbe andare il portiere classe 2004. Tra l'altro con lui in panchina presente col numero 12 Claude Barotac. Con classe 2005 insomma due portieri giovanissimi per il San Giuliano. L'aglianese che in panchina ha Moretti come secondo portiere. Anche lui in classe 2003 quindi una quota in questo campionato. Jacopone intanto salta e sbroglia un problema. Poi Perugy devia. Lascia il pallone a Fiaschi che libera sui piedi di Solerio però. Prova a far ripartire bene il San Giuliano. La palla forse è un po' troppo lunga. Esatto termina oltre la linea di fondo campo. Non riesce ad arrivarci Dejana che consegna il pallone a Iolfi. Che partirà dal basso con i suoi due fidi centrali. Verrebbe da dire vicini a lui. Pronti a far ripartire l'azione. San Giuliano che come l'aglianese dopo quattro partite ha cambiato il proprio allenatore. È tornato Andrea Cicci. Insomma un allenatore che era già stato a San Giuliano. Che aveva fatto le fortune del San Giuliano. Portandolo fino alla Serie C. Insomma la partenza un po' claudicante. Non ha reso felice la famiglia luce. Quindi Cicci è tornato. Insieme a lui qualche giorno dopo anche Salsano. Di cui parlavamo poco fa. Insomma un centrocampista molto importante per la categoria. Infatti è reduce dalla doppietta della settimana scorsa. Nella vittoria di 2-0 del San Giuliano. Torna anche Guerrini dal titolare. Anche lui che con Ravenna aveva preso un rosso diretto che gli era costato due giornate di squalifica. Tanto la palla lunga per Bocalon che si aggancia con Bruzzone. Alla meglio Bocalon che serve Gabbianelli. Va all'indietro il numero 10. Rischiando anche qualcosa. Infatti perde palla. Alla fine poi riesce a sopperire alla sua mancanza mettendo il pallone in fallo laterale. Ma Ciccio Baiano indica la via col dito e punta la porta difesa da Manfrin perché vuole la Lianese giochi in avanti. Sì come hai visto Gabbianelli ha cercato di accentrarsi per fare lo scarico ovviamente. Verso i propri difensori è stato accerchiato soprattutto dal numero 11 Gabriele Dejano. Un 2005 che come prima hai visto è molto reattivo fino a questo momento. Sì 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 sta giocando una buona partita la quarta da titolare per lui quest'oggi in serie di ottava presenza totale. Insomma nonostante l'età sta essendo molto utilizzato qui buona l'uscita di Malocu in anticipo su Keros. Poi si allunga troppo la palla in laterale albanese dunque rimessa laterale a favore del San Giuliano che ha cambiato tutto con Brischi. Palla per Solerio. Manovra Bruzzone. 11 punti ricordavamo del San Giuliano in questo momento. Uno in meno dell'Aglianese quindi una sfida calda tra due squadre che dicevamo hanno obiettivi di classifica simili perché entrambe sono partite per fare bene in questo girone di serie D. Oggi serve per uscire dalle zone calde. Insomma tre punti servirebbero tanto. Intanto probabilmente si stanno scaldando i tifosi del San Giuliano. Sì esatto quello che sentite di sottofondo sicuramente lo sentirete perché sono abbastanza vicini. Sono i tifosi del San Giuliano che sono arrivati dalla Lombardia per sostenere la propria squadra. e hanno iniziato a scaldare i tamburi. Sentiremo poi insomma il sostegno dei tifosi giallo-verdi. Aiolf intanto spazza bene per Lika che appoggia altrettanto bene su Gabbianelli. Si propone Maloku. La palla è per Bocalon che probabilmente per fortuna non la riceve perché era in fuorigioco il numero 24. Palla ancora per Lika che si gira sul destro. Si fa vedere Perugia preferisce Marino. La controlla bene il numero 14 e la scarica indietro per Fiaschi. L'Aglianese torna in avanti da Perugia. Viscomi si allarga a sinistra pronto al lancio verso un attaccante. La palla anticipata bene dalla difesa. Poi esce Azzeni bene con la palla tra i piedi. Dejana ancora per Azzeni. Arriva poi accogliati. Keros pensa ancora a Accogliati che passa davanti a Viscomi. Vediamo cosa riesce a ottenere. Un calcio di punizione. Anzi no perché inizialmente il guardaline non aveva dato il calcio di punizione. Il direttore di gara invece che era più lontano dal punto di battuta ha deciso di fischiare un calcio d'angolo corto. In sostanza per il San Giuliano. Keros e Salsano sulla palla. Salsano prende qualche centimetro verso il centro del campo. Viscomi ancora a colloquio col signor Guitaldi. Ma questa può essere una punizione davvero pericolosa. Ricordiamo su due calci piazzati il San Giuliano ha vinto l'ultimo turno di Serie D con doppietta di Salsano. Un gol sul rigore, un gol sul punizione. Quindi insomma c'è da stare attenti molto alle punizioni. Qui intanto fanno presente i giocatori dell'Aglianese che il calcio di punizione era sulla linea. Invece la palla è stata posizionata più nel centro del campo. Vediamo se Salsano va in porta. Sì va in porta. Non arriva sul secondo palo Cogliati che era libero di saltare. Però la palla era troppo alta e quindi rimessa dal fondo per Aiolfi. Sì, netta occasione per il San Giuliano City. Fortunatamente per il Nero Verdi la palla è sorvolata su tutta l'area ed è terminata ovviamente in fondo campo. Ma veramente che brivido. Da segnalare appunto che questi due giocatori, ovvero i centrali, mentre ora Boccalon cerca di ripartire. Boccalon! Boccalon! Boccalon al limite dell'aria. Rientra sul destro. Prova al passaggio intelligente per Lica. La difesa del San Giuliano capisce però le intenzioni e recupera. Malocu però esce alto su Vassallo e di ginocchio la devia in fallo laterale. E dunque si ripartirà con una rimessa laterale a favore del San Giuliano. Intanto sugli altri campi si sono già mossi diversi parziali perché Limolese vince 1-0 col Sant'Angelo. 0-1 del Carpi sul campo del Mezzolara. Sandonino fa un full addirittura 1-1 dopo appena 11 minuti. Quindi insomma una partenza sprint quella di Sandonino fan full. Adesso vedremo poi cosa si svilupperà qui al Bellucci. E ricordiamo anche che il derby fra Prato e Pistodistici che era appunto mercoledì 15 per ovviamente per le condizioni avverse che sono accadute. Quindi ricordiamo anche, ci associamo come ho detto anche nella scorsa settimana nella nostra trasmissione calcio toscano e calcio giocato. La vicinanza dell'Aglianese calcio a tutte le famiglie e purtroppo a chi ha avuto la perdita dei cari. Certo assolutamente insomma tanti danni purtroppo nella zona circostante. Infatti anche l'Aglianese probabilmente se avesse giocato in casa non so se si sarebbe riuscito a disputare la partita. Intanto Perugia ha una buona idea. Calibra male però il Mancino dunque la palla è fuori e Manfrin può rimetterla in gioco anche lui con i suoi centrali vicini. Serve Solerio scavalcando il primo passaggio offertogli da Bruzzone capitano classe 94. La terza stagione al San Giuliano ma lui è un veterano della serie D. Sono 210 le presenze insomma veramente veramente tante. Attenzione all'1-2 buono sulla sinistra con Fiaschi che è bravo con la spalla a chiudere Dejanan. A non permettere al numero 11 di ripartire. E qui tocco di mano intanto da parte di un giocatore del San Giuliano. Calcio di punizione affidato a Jacoponi che va a prendere il pallone. Lo sistema in terra e richiama i suoi compagni. Oltre a quello che dice il cronometro sono 13 i minuti passati qui al Bellucci. Bruzzone anticipa Bocalon e fa ripartire l'azione con Salzano. Jacoponi copre l'uscita tranquilla di Iaioffi che colleziona il pallone. Aspetta il movimento dei compagni. Viscomi si fa vedere lì vicino. Preferisce però non rischiare niente il portiere ex crema. Alla fine invece serve il numero 31 che va a lungo verso Lica. Non stacca neanche il numero 80. Buona la difesa del San Giuliano. Marino si incespica un attimo. Poi alla fine trova bene Fiaschi. Largo sulla destra ad Ancona. Fa un buon movimento Lica davanti a lui. Servito il numero 80. Salzano corre insieme a lui. Gli mette il piede davanti e riesce a servire poi Bruzzone che va all'indietro da Manfrin. Rischia qualcosa qui il San Giuliano perché l'Aglianese aveva tre uomini in pressione alta. Dunque rimessa laterale in zona d'attacco per un'Aglianese che è partita veramente veramente bene in questo primo quarto d'ora di partita. Perugia attenzione va in mezzo verso Bocalon. Non arriva la palla rimbalza bene per Marino e Manfrin era rimasto fuori dai pali. Attenzione però sbaglia il rinvio. La palla è ancora dell'Aglianese. Gabbianelli entra in area di rigore. Pensa al Mancino. Rientra sul suo piede forte. Prova la conclusione. È debole e bassa quindi si rimane sullo 0-0 ma l'Aglianese qui ha fatto veramente un pressing da manuale. Sì veramente delle occasioni molto importanti per i neroverdi. Potevano secondo me avere più fortuna. Un 1-2 che poteva fare Gabbianelli invece ha provato di prima intenzione col suo sinistro. Presa bassa in sicurezza del portiere Filippo Manfrin. Ricordiamo una quota è un 2004. Oggi volete vedere con la maglia ufficiale perché appunto è giallo-verde. Esatto sì quella che di solito usano i suoi compagni sul terreno di gioco. Lui ce l'ha quest'oggi perché la squadra viaggiante è con la maglia da trasferta giusto appunto. Quindi bianca con inserti fini giallo e verdi. Vassallo intanto Keros bene per Ugi che riconquista l'ennesimo pallone. C'è questo distizio poi di Bocalon che si aspettava probabilmente il pallone sui piedi. Palla gestita bene dal San Giuliano nella metà campo. Servito Solerio pensa al cross centrato in pieno Fiaschi. Vediamo un po' poi la rimessa laterale. È per il San Giuliano. È ancora Solerio con le mani a far riprendere il gioco. Aspetta il movimento dei compagni. Salzano e Cogliati fanno movimento. Servito il numero 8 che però deve girarsi perché non ha spazio. Bravo Lica in pressing a non farlo attaccare. Poi altrettanto buona la pressione da parte di Gabbianelli insieme al numero 80 classe 2004. Lica anche oggi titolare. Vediamo Solerio che opzione sceglie adesso. Salzano si fa vedere nuovo. Va lungo invece da Dejana. La palla è ancora del San Giuliano nonostante le proteste dell'Aglianese. Palla lunga al centro dell'aria. Iolfi la fa sua senza troppi problemi. Si accovaccia e è pronto a far ripartire Bocalon che è da solo in mezzo a due. Se la palla rimbalza però ha delle buone chance. La palla infatti rimbalza. Bocalon la mette giù. Serve benissimo. Lica ma attenzione probabilmente è stato ravvisato un fallo di mano se non ho visto sbagliato da parte del numero 24 credo. Però giustamente mister Ciceri si arrabbia tantissimo con i suoi centrali perché una delle prime regole che ti insegnano alla scuola calcio è una palla lunga. Non va affatto a rimbalzare perché poi chiaramente favorisce l'attaccante. Intanto qui Viscomi lascia scorrere. Poi non si fida del terreno del Bellucci e preferisce mettere in fallo laterale. Arriva Vassallo. Suo ex compagno alla Pistoiese nella passata stagione. Keros ancora per Vassallo che rientra sul Mancino. Tutto di destro però serve in mezzo al campo Salzano. Solerio si propone. Va dentro centrale. Buona la palla. Ancora Perugici. Mette il piede e poi fa ripartire l'azione. Lica prova a rientrare sul suo piede forte ma Vassallo non glielo permette. E quindi ancora azione del San Giuliano con Guerrini che scarica su Solerio. Prova a mettere in mezzo sbilanciato completamente il cross dell'ex Gianna. E la palla è uscita. Dunque fallo laterale per la Pistoiese. Veramente una lunga carriera quella di Solerio. Un terzino sinistro che fa... Sì scusami per l'Aglianese che fa anche il centrale all'occorrenza. Ha giocato insomma in piazze importanti come Avellino, come quella della Gianna. Insomma quattro presenze anche in Serie B nel campionato cadetto per lui. Adesso però la palla è a disposizione dell'Aglianese con Jacoponi. Che anche lui insomma di terreni importanti se ne intende avendo calcato i prati della Serie A per due stagioni con la maglia del Parma. E qui Gabbianelli va da Bocalon. 1-2 triangolo largo che non si chiude perché Solerio ci mette il piede. Dejana prova a uscirne. Perugy atterrato da Solerio. Si tocca il volto. Probabilmente ha preso una manata. Solerio protesta ma Perugy atterra. L'arbitro ha fischiato fallo. Dunque calcio di punizione a favore dell'Aglianese quando siamo arrivati al sedicesimo minuto del primo tempo. Ancora 0-0. Due buone occasioni per l'Aglianese e uno spavento creato dal San Giuliano su una punizione di Salzano. Sì sono azioni molto importanti però come vedi fanno molto fraseggio. Io credo che come detto anche in varie altre telecronache deve cercare più profondità. I giocatori davanti ce l'ha. L'abbiamo visto che quando Bocalon parte in ripartenza mette veramente in difficoltà i diretti avversari. Addirittura lo marcano in due ovviamente essendo il Doge un bomber di razza. Vediamo però che secondo me anche oggi Maloku come la scorsa volta potrebbe essere importante. Perché come vedi sulla fascia sinistra a gamba oggi. Mi è sembrato questo. Sì attenzione al rischio preso da Viscomi che infatti scuote la testa non soddisfatto della sua giocata. Sì potrebbe essere importante ma Maloku anche perché Vassallo spesso e volentieri si accentra. E quindi lascia tanto spazio. Bocalone intanto non arriva anticipato da Bruzzone. Poi Jacoponi mette fuori. La palla arriva a Solerio pressato da Gabbianelli. Buono il fraseggio del San Giuliano che con tre passaggi è quasi al limite sulla tre quarti scusate. E qui intanto commette fallo Fiaschi per evitare i pericoli peggiori. Quindi dopo 20 minuti il parziale è sempre fermo. Ma attenzione a questo calcio di punizione del San Giuliano. con Salsano sul pallone. Solerio, Brischi e Bruzzone salgono per saltare. Rimane appena fuori Azzeni e Vassallo. Due persone, due giocatori sul pallone. E portiere Manfrin fuori dall'area di rigore. Salsano prende la rincorsa. Parte, porta via un uomo Keros. E' uno schema poi. Si va sulla sinistra da Dejana che punta l'avversario. Mette un pallone da Salsano in mezzo. C'è Bocalone a mettere fuori. La palla viene raccolta da Salsano quando però è già fuori. E dunque sarà rimessa laterale a favore del San Giuliano. Che è ripartito all'indietro da Vassallo. Ancora Salsano. Si cerca a Keros. Palla lunga per Guerrini. Dancona lotta ma è troppo lungo il servizio per il numero 10. Dunque Aiolfi esce dal campo per andare a raccogliere il pallone e rimetterlo nuovamente in gioco. Jacoponi e Viscomi sul corto come sempre. Keros a pressare con Cogliati che per l'occasione si è spostato sulla destra. Palla arriva a Dancona nonostante Aiolfi sia scivolato. Fiaschi poi pensa al daffarsi. Guarda avanti e guarda indietro. Viene servito Jacoponi. Palla lunga dove non c'è nessuno. In questo momento si è un po' ribaltato l'equilibrio della partita con il San Giuliano. Che sta alzando il pressing. L'Aglianese da qualche minuto, a parte l'occasione avuta da Boccalon, sta facendo fatica a uscire dalla propria metà campo. Non è contento assolutamente. Mister Francesco Baiano ha chiesto buttate palla in avanti, buttate palla in avanti. Ha fatto anche il gesto appunto con la mano di dire mandate tutto avanti. Assolutamente sì. È già un paio di volte che l'ex mister Dello Scandicci indica la direzione in cui vorrebbe giocare, ovvero in verticale. Ma per il momento il San Giuliano si sta comportando bene. E quindi l'Aglianese è costretta nella propria metà campo. Ora però è bravo Fiaschi a lottare e a guadagnarsi una rimessa laterale. Di cui si occuperà lo stesso numero 4. Uno dei due confermati della passata stagione insieme a Perugicon. Che si è infoltita la rosa con il ritorno di Grilli. Che oggi non parte nemmeno dalla panchina. E qui c'è un calcio di punizione. Intanto si batte veloce il calcio di punizione. Maloku la stoppa bene. Serve in avanti Gabbianelli. Era buona l'idea ma c'è una buona chiusura del San Giuliano. Con Brischi che ci mette il piede. E non permette a l'Aglianese di ripartire in contropiede. Prende il pallone ed è pronto a far ripartire i suoi. Palla centrale per Bruzzone. Un po' rischiosa. Infatti ne approfitta Boccalon. Poi ragiona Gabbianelli. Serve Marino. Maloku si sovrappone. Vediamo cosa fa il numero 14. Alla fine lotta ma il pallone lo prende Keros. Commette fallo il centrocampista in maglia neroverde. Quindi calcio di punizione per il San Giuliano già battuto. Sì, punizione giusta. Ovviamente l'arbitre era a pochi metri. Ha cinturato l'avversario Marino. E quindi giustamente. Però poteva appoggiarla. Invece che centrale andare sulla fascia. Come ha detto Pocanzi. C'era in corsa Maloku. Forse poteva essere migliore. Qui intanto manca lo stop Vassallo. Quindi rimessa laterale per l'Aglianese. Che ha dovuto fare anche dei cambi. Chiaramente vista l'assenza di Grilli. Che è una quota. Gioca Fiaschi in difesa. Al posto di Pupeschi. Intanto buona la sponda di Boccalon per l'Ica. Però fa rimbalzare il pallone. Ma non riesce a indirizzarlo con potenza verso lo specchio della porta. Quindi Manfrin lo colleziona senza troppi problemi. Guerrini intanto attaccato da Dancona. Serve Dejana. Si chiude il triangolo. Poi ci mette il piede Fiaschi. Serve Perugi. Attenzione però. La palla rimbalza bene per Boccalon. Bruzzone fa buona guardia. Ci mette il fisico. E fa ripartire i suoi. Sbagliato però il lancio. Lo colleziona Viscomi che prova a tornare da Gabbianelli. E quindi fuori misura. Però Mr. Baiano si qui e continua a far capire come suo solito. Quando non è soddisfatto della partita. Con ampi segnali. Palla un po' velenosa. Ma Boccalon è lontano. Quindi Manfrin ha tempo di metterla giù. Va per vie centrali. Buono il pressing di Perugi. Che colleziona un buon pallone per l'Aglianese. Aveva trovato un grande corridoio per Marino. Ma ci ha messo il piede Brischi. Viscomi attenzione. Lancio lungo però scivola il pallone dalle mani del numero 31. Quindi il San Giuliano deve metterla fuori. La fa scorrere l'esperto difensore in maglia numero 31. Se ne occuperà ancora lui della rimessa laterale. Aglianese che in questo momento ha di nuovo invertito la rotta della partita. Perché sta attaccando da un paio di minuti a questa parte. Ma lo occupa la rasoterra per Lica. Che dribbla bene in area di rigore. Pensa al destro. Aveva fatto un capolavoro destro-sinistro. Non è uscito altrettanto bene il tiro. Ma questa degli ultimi minuti è una buona Aglianese. Sì, un attimo Aglianese. Peccato per questa conclusione. Che come hai visto il corpo era spostato. Invece che verso sinistra, verso destra. E quindi il pallone gli è girato veramente molto lontano dal palo. Un Aglianese che ha ripreso. Possiamo dire un Aglianese che si è un po' risvegliata dal torpore di questo San Giuliano. E vediamo appunto che se riesce a finalizzare può veramente mettere in difficoltà il San Giuliano City. Esatto sì, perché in area di rigore al momento l'Aglianese quando costruisce ci sta entrando con facilità. E non è chiaramente una cosa scontata. Visto attenzione intanto la palla indietro per Bruzzone che deve servire Brischi. Poi alla fine esce bene il San Giuliano. Vassallo anche fortunato nel rimpallo. La palla per Kheros. Ancora una volta per Ugi. Poi in Cogliati ci mette il fisico. Poi prende in mano il pallone Jacoponi per far capire di aver preso solamente la sfera. Cogliati però è in terra. Il direttore di gara ha fischiato e va a dire qualcosa a Viscomi. Che già in più di un'occasione ha fatto sentire la sua voce al direttore di gara. Chiaramente non accetta troppe proteste. E vediamo adesso come giocherà questo calcio di punizione il San Giuliano. Salsano ha già preso il pallone. Sì tra l'altro Viscomi che non c'entra assolutamente niente in questa azione. Però appunto avrà sentito mentre era di corsa l'arbitro. Ricordiamo il signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini. E quindi a Reda Guita un po' il numero 31 nero verde. Una posizione questa molto particolare per questa punizione. Tutti schierati sotto palla gli undici della Aglianese. Vediamo cosa accadrà. Salsano alza le braccia e intanto chiede l'Umi all'arbitro. Probabilmente non ritiene sufficiente la distanza di Gabbianelli. Ma il direttore dice che si può andare e Gabbianelli lo invita a farlo. Salsano con Vassallo lì vicino. Un 1-2 rapido. Palla sul secondo pallo. Svetta Solerio. La rimette in mezzo. Poi chiude bene l'Aglianese. Dejana prova la conclusione. Colpisce Cogliati. E riparte Lika in contropiede. Dribbla bene il primo avversario. Poi non c'è fallo. Il pallone rimbalza malissimo sul terreno di gioco. E Salsano poi viene chiuso bene da Viscomi. Gabbianelli torna all'indietro. Poi scarica su Bocalone. Anticipato. La palla è lunga per Dejana. Che prova a lottare. E poi ci mette il fisico Viscomi. Rimane a terra Dejana. Dejana va a chiedere scusa a Viscomi. Insomma classe 91. Il difensore dell'Aglianese. Classe 2005. Buon gesto di fair play. Ma tanta l'esperienza di differenza. Qui si è vista. Insomma per fortuna Dejana si rialza senza particolari problemi. Questa è sicuramente la cosa più importante per il prosieguo della partita. Dejana che intanto gioca abbastanza fluido il San Giuliano. Possiamo dire esatto. Perché al momento c'è Keros a fare la punta centrale. Cogliati a sinistra. Che può farlo. E Dejana è venuto a destra. Quindi ha proprio completamente ribaltato il fronte offensivo. Mister Ciceri. O se non l'ha fatto insomma era una cosa già programmata. Perché il numero 9 è sulla fascia a sinistra. Attenzione intanto a Perugi che viene atterrato non fallosamente. Azzani riparte con il pallone tra i piedi. Prova a servire proprio Dejana che tocca il pallone col destro. Pensa alla conclusione. Poi mette centrale. Ma c'è Viscomi verso l'Ica. La palla rimbalza male. Insomma purtroppo Maurizio anche oggi parliamo di un terreno di gioco non in ottime condizioni. Ma da quanto mi risulta so che sono state diverse partite. Anche questa mattina vediamo negli ampi spazi. Non dico delle buche ma dei camminamenti. Come vuoi dire. Quindi giocare e soprattutto tenere il pallone a una stessa gradazione non è facile. Purtroppo questa è la situazione. E quindi ovviamente la Lianese aveva fatto già presente questo. Ma ne prende sicuramente atto. Buono qui la chiusura di Jacoponi con Marino che viene atterrato non fallosamente. D'accordo mister Ciceri. Marino non protesta neanche più di tanto. Quindi probabilmente era consapevole che il tocco non c'era stato. Però è chiaro ripartire con la palla bassa diventa problematico. Qui Solerio prova al passaggio per Salsano. Perugi poi ci mette la gamba ma fortuitamente favorisce Solerio. La palla ancora a disposizione di Cogliati che entra in area di rigore. La palla è buona all'indietro. Conclusione botta sicura da parte del San Giuliano. Che però non trova la porta perché a Iolfi la palla è centrale. Ma la conclusione di Azzani era veramente veramente pericolosa. Sì sono 25 minuti di gioco qui allo Stadio Bellucci. Zero a zero come vedete anche dalla nostra grafica. Faglianese San Giuliano City. Si alza il tifo della tifoseria del San Giuliano City. Ma soprattutto ora questo fuorigioco di rientro giustamente. Sanzionato dal primo assistente della signora Beatrice Toschi della sezione di Imola. Calcio di punizione di cui si occuperà direttamente a Iolfi. Chiede densità in mezzo al campo Stefano Pieri che si è alzato dalla panchina a supporto di Mr. Baiano. Vediamo a Iolfi che chiede ai suoi di salire tutti spostati sul centro del campo. Palla a lunga dove c'è soltanto Bruzzone che ci mette la testa ma favorisce il recupero dell'Aglianese. Qui c'è un malinteso tra Malocu e Marino. La palla scivola ma l'Aglianese non deve perdere metri perché chiaramente adesso ora vedremo quello che sarà la scelta dei giocatori del San Giuliano. Che però sono chiusi nella propria metà campo. Viscomi anticipato da Accogliati. È bravo però il numero 31 a recuperare ancora palla. A lanciare verso Bocalon. Buovo il movimento di Lica per Arricciolo. Poi la palla splendida per Marino sulla sinistra. Si accomoda al pallone numero 14. Ci serve Gabbianelli. Pensa all'1-2. Poi si va da Malocu che si sistema al pallone. 2-3 finte. Qui l'Aglianese probabilmente ha perso qualche tempo di gioco. Poteva velocizzare un po' di più. Ma Viscomi c'ha già la palla. Fa saltare Cogliati. E va da Jacoponi che cerca la palla filtrante per Bocalon. Anticipato bene qui dalla difesa. Però Perugia ancora la grande. Da ancora va ancora da Perugia. Perugia in mezzo. E la deviazione col petto. Senza chiaramente soltanto accennate le proteste. Poi Perugia si scusa anche con Solerio. Perché era netta la deviazione del petto del numero 3. Quindi primo calcio d'angolo della partita. Affidato al duo Lica e Gabbianelli. Che si avviano verso la bandierina. Sì, secondo me cercheranno uno schema. Che Ciccio Baiano ha provato molto da quando è tornato in sella. Alla panchina dell'Aglianese 1923. Vediamo appunto i due giocatori che si stanno portando dalla parte destra. Primo calcio d'angolo. Ecco la palla per Gabbianelli. Che entra sul mancino. La mette in mezzo dove c'è Viscomi. Anticipato bene. Poi la palla arriva a Marino. Che non può concludere perché rimbalza male il pallone. Ma Loku punta. Va sul mancino. La palla rimessa in mezzo. Ancora Viscomi. Marino. Vediamo cosa fa. Va sulla destra per Gabbianelli. È in posizione tiro anche. Decide di andare ancora a rosaterra da Marino. Che è chiuso all'interno dell'area di rigore. Prova un tocco veramente difficile. Ma è ancora calcio d'angolo. C'è stata la deviazione. Quindi secondo calcio d'angolo della partita. Veramente ottima la verve dell'Aglianese in questi ultimi minuti. Adesso ancora due giocatori sul pallone. Vediamo se sarà ancora uno schema. Gabbianelli però alza le mani. Sembra voler andare nel mezzo. Vedremo. Adesso appena arriverà il fischio del direttore di gara. Dallo Casey va in mezzo dove c'è Bocalon che lascia scorrere. Viscomi rimane giù. Chiede la protesta per il fallo di Imano. Non ravvisato. Poi Marino di sinistro. Ribattuta bene la conclusione. Palla poi spazzata via dal San Giuliano. Rimbalza bene per Dancona. Che fa una buonissima cosa. Ovvero di testa la mette verso il portiere. Ancora proteste di Viscomi. Che chiede al proprio portiere di aspettare. Perché ci sono ancora proteste in corso per il tocco di mano sul velo di Bocalon. Il direttore di area però non ne vuole sapere. Quindi rimane deciso per la sua strada. Qui ancora Bocalon che spizza benissimo per Malocu. La palla gli capita perfetta sul Mancino. Torna ancora dall'ex Salernitana e Venezia. Che si gira verso Perugia. Dietro per Viscomi. Che prova ad andare lungo. Poi sbaglia il passaggio per Marino. Ma è bravo il numero 14 a far scomparire il pallone. E farlo riapparire in zona offensiva. Da Gabbianelli. Terzo calcio d'angolo della partita. Aglianese che pressa veramente veramente bene. Possiamo dire un'alienese attrazione integrale in questa fase della partita. È il primo calcio d'angolo dalla parte sinistra. Solito schema due giocatori sulla palla. Vediamo che anche gli alti ovvero Jacoponi e Viscomi sono arrivati in aree avversarie. Quindi i centrali sai benissimo di tesa sono abbastanza forti. Esatto Gabbianelli qui punta e va sul Mancino. La palla è lunga sul secondo palo. Bocalon comunque la raccoglie. Aspetta il movimento di Perugia. Che torna sul Mancino. Va centrale da Marino. Pensa alla conclusione. Poi entra in area di rigore. Sbilanciato. Non c'è niente. Ma si rientra in polo stesso del pallone. Viscomi poi non può prenderla. C'è solo Fiaschi. Palla ancora in mezzo. Passa tra le gambe di troppi giocatori. La prendo io. La prendi te. Non la prende nessuno. E quindi è rimessa laterale per Manfrin. Sì poteva essere un'occasione che poteva essere soprattutto giocata meglio. Ci ha provato il giovane Fiaschi. Ha messo una palla in mezzo che purtroppo domenica è costato il pareggio. Possiamo dire proprio così. Il 2 a 2 del San Marino. Eravamo lì in tribuna ad Acquaviva. A parte il vento che c'era. Però vedi che il San Giuliano non molla. Il San Giuliano sulle ripartenze è veramente fondamentale. Credo il primo ammunito sia Jacoponi. Ovvero Simone Jacoponi. Il caso 87. Numero 2 della Lianese. Ammunito in questo momento. Sì 36esimo del primo tempo. Primo giallo della partita. Rimane a terra Cogliati. Speriamo chiaramente non sia niente di serio. Primo ammunito dopo 36 minuti. E Simone Jacoponi. Entrano anche i sanitari. Perché il colpo preso da Cogliati probabilmente è più serio del previsto. Ci auguriamo che possa tornare in campo il numero 9. Sembra si stia rialzando. Adesso si rialza in piedi. E si va a riprendere nuovamente la posizione. Intanto Gabbianelli ha colloquio con Ciccio Baiano. Vediamo cosa hanno da dirsi due. Ha preso le indicazioni. Vedremo poi se nei prossimi minuti scorgeremo qualche novità. Intanto Salzano è sul pallone. Vassallo si sovrappone. Cheros è lì vicino. Tornate alle posizioni iniziali. Gli attaccanti del tridente offensivo del San Giuliano. Palla girata tutta a sinistra per Solerio. Esce bene Dancona. Lo fa secco però Solerio che va per vie centrali. Atterrato non fallosamente secondo il direttore di gara. La palla arriva a Vassallo. Che rientra sul mancino. Pensa alla conclusione. Respinta bene. Gabbianelli adesso incespica un po' col pallone. Pensa al da farsi. E poi serve bene Malocu. Che appoggia per Marino. Anticipato però Cheros fa secco Gabbianelli. Prova a prendere un calcio di punizione. Non ci riesce. Entra nero di rigore col mancino. Calzopiade preferito. Lasciato libero Cheros. In questo caso un po' troppo. Aspetta l'appoggio. C'è Vassallo. Che va sul fondo. Prova a metterla. La respinta di Malocu. Quarto calcio d'angolo della partita. Primo per il San Giuliano. Tre per l'Aglianese. Però in questo caso i giocatori del San Giuliano forse sono stati un po' troppo liberi di costruire. Sì è stato molto difficile prendere il numero sette. Proprio in aria. E soprattutto come hai visto anche tu sul raddoppio. C'è stato questo rimpallo che ha voluto dire il primo calcio d'angolo. Che si batterà dalla parte destra per il San Giuliano. Ma come vedi un San Giuliano come ha dichiarato anche Mister Baiano. E' nato per stare la sua in classifica. Sì assolutamente. Sia in classifica che a livello di gioco. Insomma Mister Ciceri. Questo 4-3-3. L'ha deciso lui. Insomma a mezzo giocatori. Anche appunto Salsano stesso come Mezzala. Insomma fa capire che la mentalità è offensiva. Senza dubbio. Quello del Mister è tornato a San Giuliano. Ma qui veramente è una partita bella, divertente. Nonostante lo 0-0 perché le squadre vanno di break contro break. Quindi insomma non manca lo spettacolo. Non sono arrivate tantissime occasioni. Qualche tiro per parte ma niente di che. Qui intanto la Lianese prova ancora a manovrare. Ma il San Giuliano è tornato ad alzare il pressing. Dancona vince un contrasto. Poi viene atterrato da Dejana. Non fallosamente. Dancona ha qualcosa da dire all'arbitro. C'è ancora a terra un giocatore del San Giuliano. All'arbitro il signor Guitaldi va a sincerarsi delle condizioni. Vediamo se chiede l'ingresso dei sanitari. Sì perché Guerrini è rimasto a terra. Il classe 99. Con più di 130 presenze in Serie D. Insomma un giocatore esperto davvero. Con il San Giuliano scusatemi. 44 presenze. 45 con oggi. E zero reti. Non è ancora riuscito a segnare un gol con questa maglia. Lui che è alla terza stagione in Lombardia. Il centrocampista che ricordiamo. L'è rientrato la giornata scorsa contro il San Donnino. Dopo le due giornate di squalifica prese a Ravenna. Ancora a terra. Vediamo se riuscirà a continuare. Speriamo di sì. I sanitari sono lì per aiutarlo. Dovrà uscire dal campo perché non c'è stato il fallo. Ma soprattutto non c'è stata l'ammunizione. Quindi Guerrini accompagnato da uno dello staff medico. Fuori dal campo. Quando siamo giunti al minuto 40 circa del primo tempo. Esatto. Minuto 40 del primo tempo. Zero a zero. Tra Aglianese e San Giuliano. Sugli altri campi è variato qualche parziale. Adesso ve ne andremo a dare lettura quando la situazione lo permetterà. Perché l'Aglianese sta costruendo un'azione di ripartenza. Fermata sul nascere dal San Giuliano. Ma l'Aglianese ancora recupera la palla. Perugici mette il piede. Alla meglio Azzeni però. Che entra nel centro del campo. Ancora Azzeni. Prova la conclusione. Secondo tiro di Azzeni. Un classe 2004. Lui che qui è nato. Lui è di Firenze. Giocato in primavera della Fiorentina fino allo scorso anno. Questo il suo primo anno con i grandi. Dieci presenze e già un gol. Sì. Secondo me c'è stato anche un avallamento. Un movimento diverso della palla. Perché è appena arrivato qui sulla lunetta. Come possono vedere anche dalle immagini tutti chi è collegato qua. Dalla pagina YouTube ufficiale dell'Aglianese Calcio Channel. Per quanto riguarda questa partita. Fra Aglianese per ora 0-0 con San Giuliano City. C'è questi avallamenti sul terreno che rendono veramente anche difficile. Non ha il controllo palla. Assolutamente sì. Sta un po' mettendo in crisi entrambe le squadre. Vediamo adesso che si lotta molto sull'out di destra. Quello che per l'Aglianese è l'out di destra. Vassallo qui intanto va liscio sul pallone. Ha una buona occasione. Malocu che ha spazio. È già rientrato in ripiegamento Keros. In buono l'intervento dell'ex Under 17 Inter. che non permette all'Aglianese di ripartire. Ultimi 5 minuti del primo tempo. Vedremo poi quando sarà segnalato recupero. Sì, sarà segnalato recupero. Dancona va a lungo verso Bocalon che è partito al di là dell'ultimo uomo. Si era visto anche in diretta. Così ha confermato anche il signor Gennaro Apollaro. E quindi secondo assistente del direttore di gara oggi. Qui buona la chiusura intanto di Viscomi. Riesce a tenerla in campo Malocu. Lancia bene Marino. Si fa vedere Lika. C'è centrale Bocalon. Si allunga la palla Marino ma ce l'ha ancora a disposizione. Tutto Mancino. Poi rientra col piede destro. Pensa al daffarsi. Vassallo un attimo lo trattiene. Poi lo lascia. C'è Malocu vicino. Palla per Viscomi. Che pensa al cross. L'ha provato nel riscaldamento. La palla per Lika. Spizzata. Buona occasione qui per Lika. Che fa la cosa giusta. Ovvero la spizza appena. Per provare a sorprendere Manfrin. Ma chiaramente qui si è visto tutto il metro e novanta del portiere classe 2004. Prima stagione al San Giuliano per lui. Prima o poi smetterò di dire San Giovanni e comincerò a dire San Giuliano. E la parata senza troppi problemi. Allungando come di consueto le braccia in avanti. Come fanno i portieri onde evitare dubbi sulla palla che attraversi la linea. Una considerazione. A vederlo così le due aree. In questa prima frazione di gioco come vedi è un po' più complesso. Mantenere il pallone in area avversaria. Qui parlo dalla parte sinistra. Vediamo se il secondo tempo potrebbe essere veramente più incesivo per gli attaccanti. Che sono molto tecnici per l'Aglianese. Posizione buona di Lika. Perché il Solerio era qualche metro all'indietro. Buono il contromovimento. Non altrettanto il dribbling. Seconda chiusura difensiva a Dicheros. Veramente fondamentale il numero 7. Anche in questo caso di origine albanese. Veramente due interventi importanti. Importanti per il classe 99. Qui su Lika. Prima su Maloku. Palla intanto già giocato il San Giuliano. Palla per Vassallo. Ancora proprio il numero 7 Keros. Che pensa al daffarsi. Poi torna sul suo piede forte. Sul mancino. E va centrale da Salsano. Allarga tutto per Solerio. Mette giù bene palla l'ex Avellino. E serve ancora Salsano. Palla buona per Cogliati. Iacoponi fa valere l'esperienza. E mette fuori Dancona. Spazza lungo verso Bocalon. Che prova a spizzare. Non arriva Lika. Che era qualche metro indietro. Ma c'è Perugi a rimorchio. Marino c'ha il movimento di tre giocatori davanti a lui. Sta arrivando il quarto Kemos. Ma Locu servito il numero 27. Entra in area di rigore. Temporeggia un attimo. E Vassallo è bravo a togliergli il pallone dalla sua disposizione. A spingere in avanti dove c'è Cogliati. Deve stare attento Fiaschia. Non farlo girare. Bravo Perugi a raddoppiare. E a riprendere il pallone. Palla per Marino ancora. Uno dei più attivi in questo primo tempo della Lianese. Sia sul fronte offensivo che sul fronte difensivo. Rimessa laterale. E sta per arrivare la segnalazione del tempo di recupero. Quando siamo al minuto 44. Vedremo la lavagnetta appena si alzerà. Dovrebbero essere un minuto o due di recupero. C'è stato appena qualche perdita di tempo per gli infortuni di Guerrini e Cogliati. Vedremo cosa segnalerà la lavagnetta luminosa. Qui intanto Lica non stoppa bene il pallone. Chiarose infatti gliela leva. Poi Cogliati serve bene in avanti per Guerrini. Aspetta il movimento dei compagni. Ma Viscomi ci mette il piedone. Poi ci prova anche Perugi che atterra Azzeni fallosamente. Ha preso poi un calcio in pancia. Probabilmente involontario da parte del numero 4. Vedremo di che entità sarà il recupero. Si sta per alzare la lavagnetta. Un minuto di recupero infatti. Come previsto. Un soli 60 secondi da aggiungere da questo momento. Vedremo. Salsano come sfrutta una delle ultime occasioni. Allarga per Vassallo. Cheros. Temporeggia il numero 7. Punta Marino. Rientra sul mancino. Va a centrale. Da Cogliati. Mette fuori Gabbianelli. Di testa. Doppio tocco. Tocco di mano da parte del numero 4. Azzeni sanzionato giustamente dal direttore di gara. L'aglianese prova a battere velocemente. E Aiolfi con ogni probabilità farà terminare il primo tempo di questa undicesima giornata. Tra aglianese e San Giuliano. Palla lunga verso Bocalon che fa scorrere bene per Malocu. Attenzione all'ultima occasione del primo tempo con l'aglianese. Marino non aiutato dal terreno di gioco. Palla per Gabbianelli. Ancora Malocu che punta a Vassallo. Va sul destro. Rispinto il cross. E qui finisce il primo tempo. Dunque aglianese 0. San Giuliano 0. Non sono mancate le occasioni né da una parte né dall'altra. Ma regge al momento la parità. Quando il signor Guitaldi fischia due volte e manda a tutti a prendere un teccaldo. Sì Giacomo. Però se fosse come il pugilato ai punti. Secondo me in questa prima frazione. Direi la vittoria più sui neroverdi dell'aglianese. Non è per essere partigiani. Ma dalle chiare occasioni da gol. Che purtroppo non sono state sfruttate. Ricordiamo quindi come hai detto te il risultato della prima frazione di gioco. Aglianese 0. San Giuliano City 0. Ci sentiamo tra poco per la seconda frazione. Ma vediamo un po' gli aggiornamenti. Esatto. Andiamo a leggere i parziali che al momento sorridono all'aglianese. Con Certaldo e Lentigione 0 a 1. A favore dell'entigione. Il Forlì che perde in casa contro il Corticella 0 a 1. Imolese e Sant'Angelo 1 a 1. Mezzolara Carpi 0 a 1. San Maurese Ravenna 0 a 0. San Donnino Fanfulla 1 a 2. Progresso San Marino 0 a 1. E con questo termina dunque la diretta del primo tempo. Ci sentiamo tra qualche minuto per il secondo tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti